Siamo qui alla Tecne di Ortona per consegnare ulteriori 20 pick up per l'antincendio boschivo alle aree interne dell'Abruzzo e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile dell'Abruzzo. Sono 20 mezzi che faranno sì l'antincendio boschivo ma che sono parte integrante della colonna mobile regionale. Una colonna mobile regionale che la Regione Abruzzo e l'Agenzia della Regione di Protezione Civile hanno intenzione di rinnovare totalmente nell'arco dei prossimi due anni. Quindi oltre alla parte di attrezzature operative produrremo anche tutto il rinnovamento del modulo di assistenza alla popolazione in caso di emergenza.